Un meraviglioso viaggio nell'universo della caccia agli acquatici che regala occasioni per ammirare gli splendidi spettacoli della natura. Sembra di essere un documentario. Ma tutto anche questo, ha vinto il bel cazzino. Un mondo di acquatici, la nuova stagione. Dal 29 maggio ogni domenica alle 21 in esclusiva su CacciaTV. Grazie per la visione!